Io sono Lucia e ho deciso di dare voce per questa situazione di emergenza. Inizia così la lettera di Lucia Bilancia, una donna residente nel comune di Colli al Metauro che da 5 mesi si sta prendendo cura di sua madre 24 ore su 24. L'anziana Giuseppina Dolci di 82 anni è a casa a causa della chiusura del centro Alzheimer Margherita di Fano. Una situazione dovuta all'emergenza sanitaria ma che sta provocando diversi problemi e disagio alle famiglie che non possono lasciare soli i propri cari. Noi familiari non possiamo più essere lasciati soli e le istituzioni hanno il dovere di aiutarci perché altrimenti ci ammaliamo anche noi. Il carico assistenziale ed economico è altissimo e il diritto alla cura non può più essere disatteso. Noi siamo fiduciosi verso i nostri governanti ma se non ci daranno delle risposte in breve tempo non molleremo. Prima del Covid-19 il centro Margherita accoglieva 90 ospiti affetti da morbo di Alzheimer fornendo non solo un sostegno alle famiglie ma anche un'attività di riabilitazione in grado di limitare gli effetti devastanti della malattia. A causa delle norme di distanzamento, aveva precisato la consigliera di Fano città ideale Lucia Tarsi, il centro dovrà diminuire il numero degli utenti da 90 a 40 e dovrà quadruplicare il numero di operatori con la conseguenza di dover aumentare fino a quattro volte le rette pagate dalle famiglie. Eppure le settimane passano, aveva dichiarato la Tarsi, i professionisti sono in cassa integrazione, il grido di aiuto delle famiglie si fa sempre più incessante e ancora la regione non ha fatto nessun passo avanti. Infatti sarebbe necessaria una modifica della convenzione economica tra la cooperativa che gestisce il centro, la labirinto e il servizio sanitario della regione Marche, qualche famiglia intanto è passata alle vie legali. Come state affrontando questo problema? Questo problema si sta facendo molto pesante sulle nostre spalle, siamo soli, io sto proteggendo e curando mia madre da sola, non c'è possibilità di farmi aiutare visto l'emergenza che c'è. In più la cura di mia madre è il centro Margherita ed era un sostegno per noi, familiari, e molto importante. Io posso portarvi come testimonianza che mia madre, amante sempre della buona musica, laggiù ha ritrovato la voglia di ballare, ha ritrovato il ritmo, ha trovato la pittura, si rilassa con la pittura, ha trovato un ambiente dove si è sentita amata, coccolata, non voleva tornare a casa. Su mia madre, prosegue Lucia, ho notato dei miglioramenti perché nel centro è seguita da personale competente e specializzato. Faccio quello che posso, ma non ho l'esperienza, non ho il tatto di loro, non ho quel saper fare, di saper prendere un malato del genere e fargli fare queste cose. Nonostante che sono la figlia, l'ho sempre seguita e sto con lei dall'inizio di questa malattia, però questo centro per noi è di vitale importanza. Fiore all'occhiello di tutti, di tutti, è una cosa bellissima, è una struttura che dà serenità. Vi prego, aiutateci, aiutateci, così il danno è ingente. 90 ospiti, 90 famiglie, è una struttura di eccellenza regionale chiusa. Grazie.